Ieri sera su Sky 1 è andata in onda la quarta puntata di X Factor 9 La serata ha emesso il suo verdetto più importante è Margherita la concorrente eliminata del quarto live Abbiamo ascoltato le performance dei concorrenti e come da nostra consuetudine questa mattina vi sveliamo quali sono state le esibizioni più convincenti della serata Cominciamo da Margherita, eliminata della quarta puntata di X Factor 2015 Ieri non ha cantato bene la sensazione che le assegnazioni di Skin non l'abbiano aiutata Peccato perché era considerata una delle voci più promettenti di questa stagione Margherita è uscita allo scontro finale con Luca un altro che ieri sera non ha certo brillato sul palco Per quanto riguarda le esibizioni migliori questa volta vogliamo premiare gli Urban Stranger che ieri sera hanno cantato Numb and Core dei Linkin Park con Jay-Z Bellissima performance, gran rappato e ottimo atteggiamento sul palco